cari amici e clienti buonasera e benvenuti alla filatelia quattro baiocchia la nostra 38esima asta come di consueto facciamo un video di presentazione di questa asta che rispetto al solito è un po atipica perché oltre al consueto capitolo di filatelia storia postale numismatica e ovviamente oltre a lotti e collezioni dove avremo tanta roba c'è un'importante serie un'importante selezione di oggetti di antiquariato vintage e anche qualche opera d'arte ad esempio in questo scaffale abbiamo da collezioni tematiche dedicate alla musica dedicate al teatro cartoline fotografie tante fotografie per gli appassionati di fotografie collezioni di sigarette ma qua alla mia sinistra seguimi seguimi alla mia sinistra qua sul tavolo abbiamo messo un esempio di quello che viene proposto in asta dagli orologi per uno e per donne in oro portaceneri pubblicitari orologi d'oro collezioni di sigarette penne una g burner dei carabinieri reali un grammofono portatile delle macchine fotografiche oltre naturalmente a collezioni cataloghi numismatici di un certo di un certo pregio seguimi facciamo fare il solito giro per la ditta quale sempre sono tutte cartoline cartoline e fotografie per poi andare qui nella stanza delle collezioni nella stanza delle collezioni dove potete vedere che abbiamo collezioni di germania d'italia degli antichi stati colonie italiane isola del canale questi album i marini coccodrillo ci sono piccole collezioni dedicate un po a tutto il mondo come aria francese sud america nord america gusti primo giorno e come vedete album volumi lettere di tutto di più come di consueto chiedete condition report fotografie video queste cose ve le mandiamo chiedete scrivete telefonate sarete accontentati alla prossima